Il day after all'azienda agricola Camatta di Casa Corba è un insieme di lamiere volate via, sarre distrutte, tettoie letteralmente sradicate dal terreno. Una conta dei danni è ancora parziale per Eva Bersan e il compagno che da tre anni gestiscono questa attività che in sei mesi ha dovuto fare i conti con due trombe d'aria. Lo scorso 16 agosto il vento provocò danni per 12.000 euro. Stavolta è andata meglio, dice Eva, ma una seconda batosta in così poco tempo non ci voleva. Ieri mattina la giornata di sole non poteva far presagire quello che si sarebbe scatenato in pochi minuti. Raffiche di vento che hanno spazzato via tutto quello che hanno trovato lungo la loro traiettoria, come questo gazebo. Era molto più in qua, logicamente per la praticità della comodità di portare le cassette, invece si è spostato proprio nel senso del vento. Questo è quello che rimane di una serra completamente distrutta, stessa sorte per il padiglione dedicato allo sbiancamento del radicchio. In cui noi teniamo praticamente un doppio telo e col vento la seconda struttura praticamente si è scoperchiata. Fortunatamente le colture non hanno riportato grossi danni. L'unica cosa che abbiamo perso era quello che si era salvato del 16 agosto della cultura aeroponica delle fragole e lì è rimasto tutto accattastato, quindi adesso si è proprio da buttare via e rifare tutto quanto. Qua e là, quello che resta del passaggio della tempesta di vento, così violenta ad aver spezzato i paletti di cemento o spazzato via una copertura in legno letteralmente volata al di là della recinzione. La tettoia con copertura chiusa anche ai lati era in questa posizione qua. A coprire il fieno? A coprire il fieno, ricovero paglia, ricovero delle varie tubature e è andata là. Il vento proprio l'ha sradicata e l'ha portata di là rompendo poi la recinzione. Dopo l'evento dello scorso agosto Eva e il compagno erano ripartiti, non senza difficoltà, ora l'ennesimo colpo. Nel nostro piccolo il danno per noi è comunque ingente. Dispiace perché sai che poi danni vuol dire soldi investiti persi e tempo di lavoro perso.